Si chiama Damnazio Memorie, è la locuzione latina con cui, nel diritto romano, si condannava l'eliminazione di qualsiasi ricordo o traccia dell'imputato, come se non fosse mai esistito. Di lui non doveva restare alcuna memoria. E in effetti, per più di 800 anni, nessuna Cremona si è più ricordato del Beato Emanuele di Sescalca, nonostante proprio di Cremona sia stato vescovo per cinque anni, tra il 1290 e il 1295. Ancora oggi si realizzano statuette che lo raffigurano, come questa. Lo sguardo e la posa è giudice, il libro e il pastorale indicano il custode della retta dottrina. Ma non fu sempre così, o perlomeno non fu sempre considerato tale. Emanuele di Sescalca fu monaco cistercense. Giunse a Cremona prima del 1277. Dovette andarsene dall'Università di Parigi, infatti. Era discepolo di Gerardo di Cutri, ma a seguito di contrasti, sorti per mancati pagamenti, dovette lasciare. A Cremona, invece, fu accolto con tutti gli onori, divenne arcidiacono e ricevette il titolo di maestro. Il 30 agosto 1286, il nunfe episcopale Guglielmo, mansionario della cattedrale, gli intimò pubblicamente di comparire dinanzi al vescovo Cacciaconte per rispondere all'accusa di non pagare le decime e di detenere illegalmente la prepositura della chiesa di San Michele. Il monaco Emanuele cercò l'appoggio dell'arcivescovo metropolita, ma senza successo, per cui venne scomunicato addirittura sette volte. Il 16 luglio 1288, però, il vescovo morì. Gli successe per un paio d'anni Ponzio Ponzoni. Alla morte di quest'ultimo, avvenuto il 18 luglio 1290, dalle lotte tra i canonici per il nome del nuovo vescovo, la spuntò proprio Emanuele. Tutto filò liscio fino al 1295, quando Papa Bonifacio ottavo decise di nominare i titolari della diocesi di Cremona il suo cappellano Raineri del Porrinca da Casole. Eppure Emanuele continuò come se niente fosse ad esercitare le proprie funzioni. Nel 1297 giunse ad Advert, in Olanda, dove consacrò la cappella dell'infermeria dell'abbazia di San Bernardo. Qui morì in odore di santità il 1 ottobre 1298. Il suo corpo venne sepolto dinanzi all'altare maggiore e qui rimase per 800 anni. La nostra storia giunge così al 1998, quando la diocesi di Groningen ha esumato le spoglie del monaco dal loro sepolcro e le ha portate in processione solenne nella nuova tomba. Ma di tutto questo a Cremona non c'è traccia. Panorama affitto di eventi a Cremona per queste festività pasquali. Innanzitutto in Galleria 25 Aprile è tornata la tradizionale fiera del libro, prevista sino al 1 maggio con libri riviste, pubblicazioni e video proposti al pubblico sulle consuete bancarelle, nonché eventi, incontri ai conferenzi nella sale 20 di Spazio Comune in piazza Stradivaria, Cremona. E sempre in piazza Stradivaria domani tornano i mercatini dalle ore 8 alle ore 19 sul tema le quattro stagioni di Cremona. A Sorosina invece il tradizionale mercato dell'Angelo in via Genala e in piazza Garibaldi con artisti di strada, musica, banda e giochi. Fino a domani è possibile visitare la mostra Scatole Magiche, strumenti e alchimie per creare immagini, promossa dagli ex dell'Aselli, presso il Museo di Storia Naturale a Cremona, nell'ambito del ciclo tra scienza e fantascienza, curata da Giuseppe Begarelli e Giuliano Regis, oltre 80 le macchine fotografiche esposte da collezionisti cremonesi e non. Proseguono intanto le visite guidate a Cremona in cattedrale, aperta anche durante la pausa pranzo, per ammirare gli aspetti architettonici e artistici, con particolare attenzione alle opere di Giovanni Antonio De Sacchis, detto il Pordenone e al ciclo circuncentesco nella navata centrale. Sino al 10 giugno turisti e curiosi verranno accompagnati dai volontari del Touring Club. Fino a domenica prossima in Parazzo Comunale a Cremona, con ingresso da spazio comune o dallo scalone monumentale, prosegue la mostra di Diorami Pasquali, giunta alla sua seconda edizione, organizzata dall'Associazione Italiana Amici del Presepio, in collaborazione col Comune. Sono esposte sette opere dedicate alla Passione di Cristo sotto forma di presepi. Fino al 28 aprile, presso il Museo della Civiltà Contadina e il Cambonino Vecchio, prosegue la mostra Piccole Opere di Arte Sacra, tutte incentrate sulla Pasqua e sui suoi simboli. Fino a dopodomani, presso la sede dell'Archivio di Stato, nell'ambito della giornata del paesaggio, prosegue la mostra iconografica e documentaria Il Paesaggio nel Cuore della Città, storia, frateschi e immagini dei giardini pubblici. Grazie a tutti!